La regione toscana è schierata al fianco di chi è in difficoltà, i settori di intervento sono molteplici, emergenza casa, vita indipendente, anziani, accoglienza, migranti. Ne parliamo con l'assessore alla casa Vincenzo Ceccarelli, con l'assessore al welfare Stefania Saccardi, con l'assessore alla pubblica istruzione Cristina Greco e con l'assessore all'immigrazione Vittorio Bugli. Negli ultimi dieci anni sono stati investiti sul settore casa tra contributi e investimenti circa 500 milioni. Noi ci siamo impegnati da quest'anno a garantire la realizzazione intanto di 1.300 alloggi in tre anni, circa 100 milioni di investimento. Già nel 2017 siamo riusciti ad impegnare 40 milioni. Nel frattempo importanti sono stati anche i ristori che siamo riusciti a mettere a disposizione delle famiglie in difficoltà in quanto a contributi per il pagamento dell'affitto di famiglie che si trovano in particolare disagio e difficoltà e anche per l'alimentazione del fondo per l'amorosità incolpevole, quindi per intervenire in questo caso laddove c'è una difficoltà al pagamento dell'affitto e quindi attraverso risorse pubbliche la possibilità di evitare lo sfratto. Negli ultimi tre anni per queste due modalità di contributo sono state messe a disposizione circa 36-37 milioni. Direi che in un momento come questo di forte difficoltà per quanto riguarda tutti i livelli istituzionali, a poter garantire risorse, soprattutto anche per quanto riguarda gli investimenti, quello che ha fatto e sta facendo la Regione Toscana ci può far dire che noi riteniamo effettivamente e concretamente il tema della casa, il diritto alla casa come un tema centrale sul quale impegnarci. Siamo ben consapevoli che nelle graduatorie in Toscana ancora oggi ci sono 21-22 mila famiglie che sono in attesa di un alloggio e quindi per agevolare anche una gestione direi più dinamica, una gestione anche più veloce abbiamo prodotto anche una modifica al quadro legislativo che abbiamo adottato come giunta e che ora ha l'attenzione del Consiglio nell'intento di dare comunque alle amministrazioni comunali maggiori strumenti per quanto riguarda la possibilità e la velocità di intervento e con l'intento di creare anche una maggiore efficienza nel sistema. Ovviamente accompagnando a questo anche risorse per quanto riguarda gli investimenti nella misura che ho appena citato e contando sul fatto che il tema della casa ritorni ad essere presto un tema e una priorità anche di carattere nazionale. Noi sulla disabilità abbiamo anche di recente approvato con il Consiglio regionale che è un testo unico, un testo che mette insieme un po' tutte le normative e che ha proprio dentro i suoi principi quello di aiutare e sostenere i progetti di vita autonoma delle persone. E a questo principio stiamo improntando un po' tutte le normative che stiamo mettendo in piedi su questo fronte. Vita indipendente è un progetto specifico che ha un finanziamento in Regione Toscana di 9 milioni di euro più un milione di euro che siamo riusciti ad ottenere dai fondi nazionali. Ma insieme a questo ciò che è importante è che tutte le valutazioni e i progetti che saranno fatte sulle persone con disabilità dovranno avere come obiettivo quello di provare a garantire laddove ce ne siano le possibilità perché naturalmente non tutte le disabilità sono uguali però una vita autonoma, una vita indipendente delle persone. In questo senso vanno anche le nostre progettualità sul dopo di noi in questo senso vanno le sperimentazioni che noi abbiamo fatto e promosso alla fine della scorsa legislatura e che oggi vanno a regime con le modifiche normative conseguenti. In questo senso noi ci vogliamo muovere per garantire ad ogni persona con disabilità il massimo delle opportunità che la propria condizione li consente compresa l'attività sportiva, compresa l'assistenza e l'aiuto nelle attività scolastiche e quindi compresa ogni attività che possa aiutare anche la persona con disabilità ad avere le stesse opportunità di tutti gli altri. È un servizio che abbiamo iniziato quasi per scommessa credo che sia l'unico servizio pubblico in questo senso nel nostro paese ed è un servizio che ha portato ottimi risultati perché interviene in una fase molto critica della vita delle famiglie quando improvvisamente le famiglie si trovano a doversi misurare con una condizione di non autosufficienza di un proprio caro. Molto spesso non sanno dove sbattere la testa, non sanno a chi rivolgersi. Il progetto del pronto badante mira proprio a questo, a garantire una presa in carico in un momento di difficoltà. Le persone quindi in questo frangente possono fare un numero verde e entro 48 ore qualcuno si presenta a casa ad orientare le famiglie su quelli che possono essere servizi attivabili in questa specifica condizione di bisogno e possono usufruire anche di un assegno, una tantum di 300 euro che può permettere l'attivazione di un rapporto di lavoro con un collaboratore familiare. È un progetto che sta andando molto bene e che quindi ogni anno noi rinnoviamo che ha peraltro il pregio di coinvolgere il mondo del volontariato e la cooperazione che sono un sostegno di grande rilievo a questo tipo di progettualità e che aiuta appunto le persone a sentirsi prese in carico e indirizzate verso gli strumenti che oggi comunque ci sono a disposizione sul tema della non autosufficienza senza mai appunto sentirsi soli. Il servizio civile io credo che sia una grande scommessa che ha fatto la Regione Toscana e che ha fatto ora recentemente anche il governo anche il Parlamento. È un elemento non solo di sostegno al tutto il nostro sistema del terzo settore e al nostro welfare ma è anche uno strumento straordinariamente educativo nei confronti dei giovani. I giovani in una fase della loro vita un po' intermedia hanno la possibilità di fare tutta una serie di esperienze che gli consentono non solo di ricevere un minimo di redditorialità ma anche di fare esperienze con mondi che non avrebbero diversamente la possibilità di incrociare e anche di costituirsi dei percorsi formativi che poi potranno spendere nel mondo del lavoro. Noi abbiamo sostenuto in anticipo credo a tante altre realtà abbiamo sostenuto il progetto di servizio civile anche attraverso l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo credo che siamo state la prima Regione da utilizzare il Fondo Sociale Europeo per il servizio civile e dopo è intervenuta anche questa norma del Governo nazionale la riforma del terzo settore che ha dato un'importanza molto rilevante al servizio civile importanza che noi crediamo assolutamente giustificata. Andremo avanti su questo tema perché riteniamo che questo sia un progetto che aiuta non solo tanti giovani non solo tante associazioni non solo tante realtà ma aiuta soprattutto la nostra società la nostra comunità ad avere al proprio interno persone che siano più consapevoli di vivere il loro futuro. Non è più solo una giornata staccata dal percorso scolastico ma le scuole vengono coinvolte nella preparazione del tema appunto quest'anno si parlava di eguaglianza quindi insomma un tema anche molto e di diseguaglianze un tema molto attuale molto dibattuto e quindi bello perché i ragazzi con tante forme espressive diverse dalla musica alle immagini alle esibizioni teatrali hanno riportato una loro riflessione quindi è stato a tratti anche molto direi commovente quindi insomma sono delle più che delle pillole degli ampliamenti dell'offerta formativa sull'educazione alla cittadinanza e alla costituzione perché quest'anno è un anno importante per la nostra costituzione perché sono i 70 anni dall'entrata in vigore saranno fra pochi giorni e quindi ecco credo che siano azioni importanti che la regione toscana fa da anni questo era il ventunesimo meeting che vogliamo consolidare e portare avanti anche per il proseguo della legislatura Come in tutte le cose e come in tutte le gestioni dei servizi è più facile gestire diciamo anche l'accoglienza se la si fa in piccoli nuclei perché le persone accolte stanno meglio perché il quartiere d'intorno gestisce meglio questo rapporto nuovo che viene a instaurarsi ovviamente la situazione non è facile da gestire però in questo modo è possibile diciamo non tanto fare la semplice accoglienza ma fare in quel posto in quel comune in quella frazione un progettino in cui questi ragazzi passano la giornata anche svolgendo delle attività volontarie come abbiamo fatto per esempio per la pulizia di tutta l'asta dell'Arno in queste attività volontarie incontrano le persone ed è dall'incontro delle persone poi che diciamo smettono di essere profughi tra virgolette e diventano un nome un cognome una faccia una storia e questo favorisce anche l'integrazione e l'incontro e l'integrazione e l'integrazione